parlando di assemblaggio pensiamo subito allo chef de cave quindi al capo del della cantina quella persona che grazie alla grandissima conoscenza del territorio dei vini e della tecnica è in grado poi di andare a costruire il percorso del vino in cantina ma in realtà dobbiamo prima di tutto precisare che gli assemblaggi possono essere vari di natura completamente differente non stiamo negando il fatto che lo chef de cave sia un grandissimo professionista che necessariamente conoscerà dai impianti quindi dalla vigna fino al frutto fino al vino e territori differenti semplicemente cerchiamo di fare chiarezza parlando di assemblaggio possiamo ragionare di vitigni differenti ricordiamoci che sono sette comunque i vitigni che possiamo utilizzare all'interno della della ossì champagne potremmo lavorare su cru differenti non necessariamente provenienti dallo stesso territorio e potremo anche andare a lavorare su annate differenti quindi su millesimi differenti per cercare di avere un vino che si esprima in maniera costante a livello qualitativo l'assemblaggio territoriale quindi l'assemblaggio di più di più crew l'assemblaggio dunque delle uve provenienti da vigneti dislocati nella champagne che potrebbero riguardare nuovamente una singola area delle quattro aree citate già più volte per esempio la montagna del rheims la valle della marne oppure la cotte bar o ritornando verso la parte più centrale la cotte blanc anche lì potremmo avere un mix di uve per cercare di portare all'interno del percorsi di vinificazione vari lotti fondamentalmente per andare poi con lo chef de cave a individuare quello che è il blend il blend migliore consideriamo dunque che potremmo lavorare su singoli crew o addirittura potremmo lavorare su singoli vigneti per cercare di tirar fuori la massima espressione qualitativa ruinar è una grande maison che esprime al meglio questa capacità tutti i vini fatti dalla maison a base chardonnay provengono da crew inseriti nella zona della montagna del rheims e della cotte blanca ovviamente dove lo chardonnay si esprime ai massimi livelli blanca blanca stesso di ruinar è una espressione perfetta sia di premier crew che di gran crew e andiamo a portare all'interno del del vino un equilibrio andando ad esaltare quello che è la visione del vino della maison dunque poter giocare sul territorio le tantissime sfaccettature che il mondo champagne ci sa dare partendo dalla vigna è sicuramente un'impresa non semplice perché dobbiamo conoscere alla perfezione quello che è il microclima di ogni singola zona dobbiamo conoscere alla perfezione quello che poi sarà il percorso di vinificazione di quella singola zona per poi andare a creare il blend perfetto che ci possa dare il vino che avevamo in mente dall'inizio sia vero che l'assemblaggio territoriale gioca sulle varie sfaccettature della della champagne quindi sull'identità è anche vero che l'assemblaggio di vitigni invece gioca su equilibri e contrasti a seconda di quali dei sette vitigni andremo ad utilizzare il pino nero è il principe della champagne comunque il vitigno più diffuso ed ha la caratteristica di portare più complessità struttura corpo quindi anche un po più di muscolo e di giocare spesso su delle note di frutti rossi indipendentemente se andiamo a lavorare su un blanc de noir oppure se andiamo a lavorare in assemblaggio puro o in rosé beh lo chardonnay invece ha la caratteristica della finezza dell'eleganza gioventù porta questa vena di grandissima freschezza e permette agli champagne anche lunghissima evoluzione proprio in virtù di questa componente di acido malico e acido tartarico estremamente accentuata il monier ex pino monier invece gioca su delle note un po più morbide delle note un po più fruttate spesso e volentieri se non portato alla perfetta maturazione però porta delle note leggermente erbace gli altri quattro vitigni sono estremamente marginali e non rivestono un ruolo fondamentale o importante finiscono sempre in blend in parte minima se parliamo di assemblaggio legato ai vitigni non possiamo non tornare nella culla della champagne nell'origine dove tutto è nato e quindi parlare del brutti don perigno del millesimato qui abbiamo pino nero e chardonnay che se la giocano parlano dialogano e ci danno la possibilità di andare a raccontare appunto la storia la visione di una di una mesona basti pensare che e questa è una bellissima curiosità gli assaggi che vengono fatti perché poi blend ovviamente può cambiare in piccola parte da anno in anno vengono fatti dentro l'abbazia in rigoroso silenzio ed è soltanto lo chef de cave che oggi è chaperon che si fa gli assaggi in solitare e quindi è una situazione quasi mistica la situazione molto collegata a quella che è la leggenda di don perignon ci ritroviamo una persona un individuo che si assaggia i singoli vini per poi andare a determinare quello che sarà il blend perfetto per andare a raccontare di nuovo la storia di don perignon nel mondo l'assemblaggio più classico rimane comunque quello legato alle annate quello legato alla costruzione di una cuve che possa dare una continuità qualitativa nel tempo molto importante non ci dobbiamo dimenticare che nella champagne più che in altri territori c'è un oscillazione molto forte tra un'annata e un'altra basta pensare come abbiamo cercato di fare dividendo il territorio in due macro zone quindi la parte del nord che ha un'influenza atlantica con una ventosità abbastanza importante la parte sud quindi la cote bar dove invece l'influenza atlantica non si sente abbiamo quindi un clima prettamente continentale e non di rado in primavera abbiamo le gelate ecco queste caratteristiche vanno prese in considerazione insieme anche alla grande piovosità che potrebbe variare nel tempo nello cercare di andare a sviluppare un vino di super qualità avremo delle annate di riserva che potranno nel tempo permetterci di mitigare le non grandissime annate un grande esempio uno dei produttori delle maison più importanti che ha saputo meglio di altre sviluppare il concetto dell'assemblaggio appunto delle vintage è sicuramente krug ma lo fa in maniera scientifica dobbiamo immaginare intanto un comitato di cinque persone che si riunisce assaggia migliaia di vini ma stiamo parlando di qualche centinaia parliamo veramente di migliaia di vini per ogni vino assaggiato viene creata database una scheda in cui tramite l'inserimento di tag andremo a evidenziare quelli che sono gli aspetti principali di quell'annata di quella di quel vino che potremo andare a riutilizzare nel momento in cui subentra la nuova annata che sarà la parte preponderante comunque sia del vino inizieremo a seconda delle nostre necessità a prendere da database il vino di riserva che ci serve in questo modo saremo in grado quindi di creare un forte equilibrio di andare a garantire la massima qualità ogni anno dobbiamo considerare in questo comitato di cinque persone di recente è entrata anche una ragazza per la prima volta tra l'altro gli 25 anni questo dimostra l'attenzione da parte della maison alle nuove generazioni la volontà da parte di krug di far capire che lo champagne non è necessariamente solo per le grandi occasioni ma un qualcosa che può andare a tutto pasto e che può essere utilizzato in momenti differenti indipendentemente dall'età